Il cambio di governo, i ministri non confermati ed ora pronti a nuove sfide, ma anche l'annuncio di Bassolino che ha rotto gli indugi. La campagna elettorale per Napoli è in pieno fermento. Nel centro-destra manca praticamente solo l'ufficialità per Catello Maresca. Ancora da individuare invece il candidato del centro-sinistra, Vincenzo De Luca, vuole accelerare. La prossima settimana il governatore vedrà il segretario nazionale del PD, Nicola Zingaretti, al quale dirà che la squadra è in via di definizione. Già 11 le liste pronte sulla falsariga della coalizione eterogenea che lo ha sostenuto alle regionali. Resta da sciogliere il nodo del candidato sindaco. Due i favoriti sui quali si sta discutendo entrambi ex ministri, Vincenzo Amendola che ha guidato il digastero degli affari europei e Gaetano Manfredi che si è occupato di università. Nomi di alto profilo che potrebbero incassare anche l'eventuale sostegno dei 5 stelle meno intransigenti. Oltre ai nomi però ci sono le priorità programmatiche e tra queste per De Luca c'è sicuramente il tema infrastrutture. Noi dovremmo definire un grande piano di interventi strategici come regione e proponiamo al governo nazionale come interventi strategici nell'ambito del recovery plan. A sinistra bisogna fare i conti anche con possibili divisioni. Bassolino inevitabilmente drenera voti da quella parte dello schieramento anche se non mancano le perplessità, come ha spiegato l'ex consigliere regionale Francesco Todisco nel corso della trasmissione Punto di Vista condotta dal direttore di 8 Channel S96 Pierluigi Melillo. Io credo che a Napoli ci siano energie, competenze che possano rappresentare al meglio l'orizzonte progressista, l'orizzonte del centro-sinistra.